Sono Riccardo Trombetta, Strapultista Donk. Munito solo di un cellulare e dell'aiuto di qualche amico, porterò a termine 100 missioni Strapult. Imparare a immedesimarsi in un oggetto è una delle prerogative fondamentali di chi vuol fare l'attore. Bene, nelle grandi scuole insegnano a diventare un albero. A me non basta, voglio andare oltre. Chi può aiutarmi a farlo? Molto semplice. Lui, il maestro Lucio Montanaro. La mia missione di oggi è imparare la tecnica della trasformazione da Lucio Montanaro. Maestro, mitico Lucio Montanaro, maestro. Sento una gentilezza. Non mi faccia incazzare come una bestia, perché sto già nero per conto mio. No, maestro, ci mancherebbe. Chiedo solo una cosa velocissima, una cosa velocissima. Senti, ragazzi, io sono stato sfrattato e sto cercando una casa. È inutile che mi rombete. Io sono Riccardo Trombetta, è piacere maestro innanzitutto. Io sono un suo grandissimo fan e sto girando un documentario sul cinema Strapult di cui lei è protagonista. Ah, Strapult. Ho capito. Senti, per favore, stringiamo. Stringiamo? Ok, perfetto. Di cosa si tratta? Ok, vado al solo, vado al solo. Io vorrei fare l'attore, vorrei tornare ad essere uno di queste grandi icone del cinema di genere, va bene? Ma arrivo al dunque, che cosa vuoi? Maestro, mi devi insegnare a diventare un oggetto, come fa lei? Siccome sei molto simpatico... Grazie, troppo gentile, maestro. Mi devi paragonare per un attimo a una cabina telefonica. Ciccchile, 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 ciccchile. Rispondono. Allo, Franco. Senti, io arriverò verso... Sono finito i gettoni. Dovrei provare io a fare questa cosa. Eh, ok. Ma che tutto. Metti i gettoni. Ma c'è anche il numero? Rispondi, rispondi. Pronto Franco? Franco mi senti? Franco Franco Ti ho dato la linea maestro Ti posso dire una cosa? Si Io non voglio perdere più tempo Lascia perdere non è per te questo lavoro Maestro ma deve andare quindi va? Ok no maestro ma prima che mi va via mi insegna a fare pure la gallina come faceva in carabinieri La gallina la gallina Come si fa la gallina? Non è una cosa semplice Basta trombetta Vabbè puoi fare grazie per questo oggettissimo eh